Grazie Presidente. Colleghi deputati, rappresentanti del Governo, con ramarico anche io per pochi istanti sono costretto a rappresentare il disagio nei confronti del Governo rispetto alle procedure che sono state innescate in questo ennesimo provvedimento di decretazione d'urgenza. Ricordo in particolare il Presidente del Consiglio Enrico Letta con il partito a cui faceva riferimento protestare vistosamente rispetto a questo abuso e vorrei lanciare anche un segnale perché le opposizioni tutte, mi risulta, hanno rinunciato fin dal principio a una opposizione tra virgolette pregiudiziale. Tutte hanno dichiarato viceversa la loro disponibilità a entrare nel merito dei provvedimenti, a migliorare i provvedimenti, a fare il proprio lavoro e ovviamente a contrastare il Governo laddove i provvedimenti che vengono calati fossero antitetici rispetto alle proprie sensibilità e alle proprie convinzioni. Dunque non sciupiamo, come è stato fatto nelle precedenti legislature, questa disponibilità. Cerchiamo di attivare in maniera sperimentale un rapporto virtuoso tra maggioranza e opposizione, tra Governo e Parlamento, che preveda il diritto d'accesso alle discussioni, alla partecipazione alla composizione dei provvedimenti e quindi magari per il futuro cerchiamo di evitare, ultimo appello, che un decreto possa permanere nell'altra aula per un tempo eccessivo, tale poi da tornare alla Camera con poco tempo a disposizione per metterci le mani, quindi con relativa mortificazione del Parlamento stesso e delle forze che lo compongono. Però io vorrei dire, siamo in dichiarazione di voto sulla fiducia, Fratelli d'Italia non fa parte del Governo, manifesta la sua contrarietà a questa fiducia, però vorrei dire attenzione, perché al di là del merito del provvedimento su cui interverrà un collega di Fratelli d'Italia in dichiarazione di voto più tardi, sulla fiducia noi ci attestiamo e confermiamo la nostra contrarietà a questo Governo perché ci sembra che tutti i nodi siano rimasti esattamente lì dove li avevamo lasciati. Questo Governo ci risulta, questa è la fisionomia che appare, che campia la giornata, che non abbia un obiettivo strategico, che non riesca a delineare un percorso tale da affrontare e portare a soluzioni le criticità con cui l'Italia si va dibattendo ormai da diversi anni. I consumi non crescono, la disoccupazione e soprattutto quella giovanile aumentano, la recessione rimane un fatto compiuto e nelle previsioni proiettate di qui a qualche anno non si modifica in maniera sostanziale. Il rapporto con l'Europa, ne parleremo in vista del Consiglio d'Europa del 28 giugno più diffusamente, ma il rapporto dell'Italia con l'Europa è un rapporto che va profondamente rinegoziato perché non possiamo pagare noi, e qui davvero andrebbe fatto un processo alla Prima Repubblica, le distrazioni piuttosto che l'instabilità costante di quei governi che duravano mediamente in carica otto mesi e che non riuscivano a farsi rispettare in Europa, per cui si vedevano risorse, opportunità dell'Unione Europea di cui siamo fondatori andare in buona sostanza e prevalentemente verso i paesi del nord Europa. Possibile che non ci sia l'energia per poter affrontare con vigore, con determinazione quello che risulta allo Stato un problema serio. Non si possono mandare a fasi alterne come se il Governo fosse un'agenzia di viaggi propri rappresentanti in Europa senza mai porre la questione centrale. Possibile che non sia chiaro? Faccio degli esempi perché voglio essere concreto. Siamo uno dei due paesi dell'Unione con gravissimi problemi idrogeologici e con un alto rischio sismico e l'Europa non prevede dei fondi strutturali per la messa in sicurezza, per affrontare le questioni appena citate del dissesto idrogeologico, che per mettere a regime solo questa materia ci vorrebbero più soldi dei debiti che abbiamo intrapreso, 2.000 miliardi di euro e oltre nel corso di questi decenni, dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Possibile che non si riesca a far rispettare questa esigenza che è un'emergenza? Oppure possibile che rispetto alla grande questione dei flussi migratori, essendo l'Italia un paese di frontiere ed essendo di fatto la porta d'accesso all'Europa stessa, che noi, sia da un punto di vista del contrasto al terrorismo internazionale, sia da un punto di vista della possibilità di affrontare l'emergenza di questi cosiddetti viaggi della speranza, non riusciamo a essere adeguatamente sostenuti e foraggiati dall'Europa? Possibile ancora che esistano trattati, convenzioni come quella del 2020-2020 per intervenire sulle alterazioni climatiche e cercare di diminuire il tasso di anidride carbonica sull'atmosfera? Accordi che penalizzano in particolare l'Italia, chissà se ce la faremo, magari staremo nuovamente sotto processo da parte dell'Europa stessa, chissà se ce la faranno le nostre imprese e non si riesce a capire che il cosiddetto effetto Serra produce delle conseguenze che vengono pagate innanzitutto dall'Italia, che è una penisola e ha due grandi isole e quindi ha un'esposizione dal punto di vista del rapporto col mare e con le acque che automaticamente genera una parte di quei problemi che si dovrebbero risolvere facendoci tirare fuori più quattrini e facendoci fare più investimenti? Possibile che non si riescano a rinegosiare quelle quote di produzione in agricoltura? che sono state scandalosamente pattuite quando appunto abbiamo avuto decine e decine di governi vigliacchi o silenti rispetto alle congetture, alla determinazione, forse all'arroganza dei paesi del nord Europa? Possibile che anche le regole sulla pesca siano state tagliate su misura sui paesi che si affacciano sul mare del nord e che i nostri pescatori debbano essere costretti di fatto a rischiare quello che poi sappiamo perché ci sono anche conseguenze diplomatiche di cui ci dobbiamo occupare andando a pescare appunto in acque straniere? Possibile che non si riesca di fatto a tutelare gli interessi dell'Italia anche sul piano della produzione industriale? Possibile che l'Europa non riesca a contrapporsi a quello sfruttamento che c'è in Cina, in India, in Brasile attraverso la produzione a costo quasi zero? In Cina in particolare ciò che noi consumiamo in Europa e in Italia viene prodotto nei laogai, in campi di concentramento dove a costo appunto nullo producono quello che noi consumiamo dissidenti politici piuttosto che detenuti semplici. È una concorrenza sleale che l'Europa deve poter contrastare in maniera adeguata sia per una questione di civiltà e sia per una questione anche di carattere economico perché noi non ce la possiamo fare a tenere alta la nostra competitività rispetto a chi produce, sfruttando anche il lavoro minorile nelle ore del giorno e della notte. Allora l'Europa ci deve stare sempre e comunque. Questi argomenti non sono più elementi di dibattito accademico come lo sono stati per decenni in ordine all'Europa, alla sua Costituzione, al rapporto tra gli Stati membri. Diventano dirimenti perché dal rapporto che noi riusciamo a stabilire con Bruxelles dal rapporto strategico possono emergere una parte delle soluzioni ai problemi che comunque oggi ci troviamo ad affrontare. Ma ci sono e mi avvio a concludere colleghi deputati, rappresentanti del Governo, delle questioni che invece sono perfettamente annodate intorno alle competenze e ai poteri del Governo. Mi riferisco per esempio alla proprietà della Banca d'Italia. Nel 2005 è stato approvato un provvedimento che prevedeva il ritorno in mano pubblica di un ente che è un ente di diritto pubblico. Poi chissà perché, nonostante il Parlamento abbia approvato questo ritorno in mano pubblica, come del resto capita in tante altre banche centrali di tanti altri Stati occidentali, siccome è stato di fatto demandato a un triennio di tempo la possibilità di emettere regolamenti attuativi significativi e conseguenti, negli anni a seguire la Banca d'Italia si è riorganizzata, ha cambiato l'articolo 3 del proprio Statuto e quindi non si può praticamente più, a causa di questa modificazione, attuare la legge approvata dal Parlamento italiano. Oppure si deve intervenire una volta per tutte per diversificare il ruolo delle banche commerciali dalle banche d'affari, se si vuole rimettere in modo l'economia e si vuole che le risorse esistenti, magari anche quelle provenienti dalla Banca Centrale Europea, possano essere messe a disposizione delle imprese, dell'economia reale, delle famiglie italiane. Queste sono solo alcune pillole delle sfide che il Governo ha sul tavolo e noi riteniamo che il Governo possa e debba accogliere, soprattutto se vuole dare ricorso a questa sorta di opposizione costruttiva dichiarata che fin dal principio ci anima. Noi voteremo contro la fiducia perché vediamo un Governo distratto, perché vediamo un Governo inefficiente, perché vediamo un Governo che fa demagogia esattamente come i Governi precedenti, perché vediamo un Governo che inspiegabilmente fa bocciare degli emendamenti con quello che a Boliva Limu per le case inagibili, cioè le case dei terremotati, piuttosto che per i fabbricati e gli immobili dove si produce e quindi si produce anche lavoro. Quindi se il Governo, e finisco, prenderà di petto queste vicende, noi saremo ben disponibili a sostenerlo. Grazie. Grazie.